Eccoci ragazzi, hanno inizio i quarti di finale del campionato di dodgeball italiano Si trovano a sfidarsi gli Alfa, radici di una vittoria contro i Royal Globefish E i Prime, che si sono qualificati per combattere per questa posizione Si comincia? Come dicevo, gli Alfa da una vittoria, i Prime saranno super aspettati di vincere E i Diablos di fare la scalata, la famosissima scalata Possesso Prime, vanno al tiro Subito una presa mancata di Piolanti, ragazzi Era proprio lì, era proprio lì, ce ne farà vedere delle belle Possesso Alfa, si preparano per l'attacco Subito, un'eliminazione, gliela rende E un'altra presa mancata, ragazzi Subito, è una partita molto dinamica, si prevede molta dinamicità Ci organizzano gli Alfa con cinque palloni All'attacco, Caprara si salva Dovrebbe essere terra, rimangono con due palloni Col terzo che torna, e tu non perdonami, oddio Ok, eliminato da un tiro laterale Possesso Prime, Caprara mette un sacco di pressione alla squadra Vediamo il comando Alfa in svantaggio Oddio, presa mancata Ma subito resa l'eliminazione Gardini a mettere pressione Recuperano la quarta palla all'attacco Stradaioli-Gardini Cinque palle Vediamo su chi andranno Su Caprara che riesce a schivare in qualche modo Bravissimo, bravissimo Subito arriva Non arriva la seconda palla all'esterno Ora la recupera, Stradaioli non ne approfitta Situazione ancora due contro tre Una finta e tiro doppio che non va Caprara con un controtiro insidiosissimo Gardini si lascia sfuggire l'occasione Rimangono con quattro palle Diablos E si preparano all'attacco Fanno partire un altro tiro doppio che non va Un altro controtiro, scusate Di Caprara che non va Si rimettono d'accordo gli Alfa Con una direttiva dal loro capitano Eliminiamo stavolta E dovevano solo sentirselo dire Bastava questo Eh ragazzi, sei palle Parte Alfa Una è andata sopra la testa di Camer Ma non succede niente Si salva un'altra volta Si salva altre due volte ragazzi Caprara fuori di testa oggi Tra controtiri che comunque vanno tutti a segno E queste schivate strepitose Sta facendo Sta facendo godere Si può dire, si Tiro singolo di Caprara Riparte Accena una ripartenza Gardini E ci risiamo Possesso Diablos Finte Dei Prime Eh bellissima schivata Forse era un tiro doppio e non si sono capiti Riesce a schivare tutto Arriva un tiro singolo Insidiosissimo Del giocatore esterno del Velletri E ora i Diablos vanno a mettere pressione in quanto Oh Gardini porta a casa l'eliminazione che cercava da tempo Possesso Diablos Difesa bellissima Difesa bellissima Non gli lasciano recuperare giustamente la palla che è quasi al centro campo Due palle Diablos Possesso ancora Velletri Si avvicina Tira Pericolosissimo Eh questa si No No Giudicata palla Bravissimo difendersi allora Un attimo di dubbio Voleva andare fin quando era ancora libera Riesce finalmente a recuperare quella palla scomodissima Caricano un contropiede Si salva ancora ragazzi Ma incredibile Non so se ne approfitterà Gardini Recupera il Velletri E va anche all'attacco ragazzi Eh questa si 1-0 Diablos Alfa ragazzi Ok ragazzi 6 minuti e 20 secondi Si rinizia Secondo set 1-0 Diablos Alfa Set tiratissimo fino all'ultimo Per niente scontato Possesso Alfa Si organizzano Tuccio Gardini Stradaioli Arrivano a centro campo E un tiro bellissimo di Gardini Caprara cerca l'eliminazione su Tuccio Nonostante Abbia la palla per difendersi Tuccio non ne approfitta Ma è lì E la vuole lanciare Ok Appena Tuccio si liberano della palla Apre vedo una pioggia di palloni da questa parte Ma è giusto così dato il giocatore 5-0 Attacco Alfa Tiro doppio che non elimina Potrebbe Essere No Invece no Niente linea Bravissimi Tuccio Queste pinte Probabilmente ha tremato anche la palestra a fianco Non ci credo ragazzi Fortissimo 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Chissà chi si porteranno a casa Si avvicinano Parte Oddio Schivano tutto Oddio Tuccio I tiri in laterale Sono precisissimi Riescono a stare con tre palle prime Non vanno a pressare l'altra palla O meglio vanno in ritardo Come non ha nessuna fretta di prendere la palla Perché Per ovvi motivi direi Caprara ne approfitta Pensavo Pensavamo tutti stessi andando su Tuccio Ma cambia bersaglio 5-0 Tiro Ok verso di me 5-0 5-0 Caprara a mettere pressione Non ha paura di usare quella palla Anche se è solo Bravissimo Ha messo una pressione Fantastica Ancora attacco alfa Vanno in due Parte una palla E elimina Elimina Questa volta il numero 12 del Velletri Riesce a portarsi a casa qualcuno Passi esterno a Camerani Possesso alfa Pressione da parte del Velletri Ma gli alfa non si fanno intimidire Fanno come dei matti Eh mio dio Tuccio Manca di pochissimo Stranissimo quando Tuccio non fa bersaglio Attacco Velletri Eh sì Presa mancata di Piolanti È quasi Eh oddio Errori di distrazione Ma Caprara oggi ha Una dodge machine È una dodge machine Si può dire 5 palloni sprecati Ma resi Forse anche 6 5 Insomma 6 Finalmente 6 Finalmente 6 Dichiarano il bersaglio Oh mio dio Oh mio dio C'era la possibilità Di concluderla Si salva Eh c'è proprio Ok linea Ok vista dagli arbitri Tuccio Salta Benissimo Soprattutto in tempistica Contro il tiro in seriosissimo Di Caprara Camerani Tuccio Oh mio dio Oh mio dio Sono proprio in posti Vabbè La presa la poi Onestissimo Numero 12 del Velletri È bravissimo Camerani Con un tiro vellutato Tuccio Se ne frega un attimo di Camerani Hanno il tempo di riorganizzarsi Scelgo il numero di finte da fare Caprara ci casca Camerani si sta mangiando le mani Per ogni presa mancata Ragazzi Si può leggere nei suoi occhi E nelle sue espressioni E arriva È difesa È difesa Oh mio dio Un'altra volta ragazzi 2 a 0 Diablos Eccoci Terzo set Mancano 2 minuti e 50 Diablos in vantaggio 2 a 0 Vediamo che cosa si inventerà Il Velletri Per Tornare in parità Dovranno per forza Accelerare Al primo tempo Perché mancano Poco meno di 3 minuti Ma Senti una botta Ok Era contro il Retriever Allora sicuramente Ok Possesso subito Diablos Forse Una mancata Comprensione Mio dio Presa mancata di Gardini Tuccio Fa partire un altro Bolide Allora 10 km in più E torna indietro nel tempo Questo tiro Velletri all'attacco Spezzano la finta Bravissimo Benzoni Però mi sembra Non lo so Vabbè Perdonate la mia ignoranza Ma Un'altra eliminazione Da parte sua Ha un tiro Forse è il secondo tiro più forte Da parte degli Alfa Gestito benissimo 5 palle Diablos L'ultima volta Non ci sono state eliminazioni Ogni volta Sembra che con un tiro singolo Portino sempre a casa qualcuno Con 5 Questo tiro era millimetrico Possesso Velletri Vanno Ok Ok Si portano a casa Giocatori Diablos Ok ragazzi Un sacco di palloni Sono partiti Un sacco di schivate Ci risiamo Con il possesso Del Velletri È arrivato tardi All'esterno Ma hanno tempo Di riorganizzarsi Insomma Neanche troppo Ma Non si fanno intimorire 4 palloni Alfa Sera Eccolo È arrivato Mirko Melis A darmi una mano Chi c'è? Come siamo? Allora Una schivata Su un tiro quadruplo Fantastico Mattuccio Ok Ah Che tuccio È arrivato E poi mi confermerai Che quel ragazzo Là fuori È Mongardi Perché nella maglietta C'è scritto nome diverso E non vorrei sbagliarlo E ha alzato il piede Il tanto giusto Per non farsi colpire No Non te lo confermo Perché non riesco a farlo Ok Non ce lo confermeranno Allora Quanto siamo? Allora 2 a 0 3 alfa C'era il rischio Di una presa doppia Sì per gli alfa 6 palloni alfa Quasi 5 Ma no Sono 6 Vanno su Oh Tio ragazzi Le schivate Le schivate Che sta facendo oggi Il Velletri Sono qualcosa Sono qualcosa di Indescrivibile Il solito tiro Dal basso Di Tuccio Sì Tutti questi tirano Fortissimo oggi Guarda Se ne frega degli altri Per un pelo Non blocchiamo Hanno gestito In pochi secondi Hanno fatto benissimo Mi piace Padre e figlio in campo È più bello Giusto Giusto Avevo tralasciato Questo particolare Allora Il Velletri Deve per forza Accelerare Se vuole tornare in vantaggio Si porterebbe Soltra a 0 Fingendo così È difficile Inizerebbe poi A diventare È difficile Anche perché Poi dei giocatori Come gli alfa O comunque come Cam Che è bravissimo A studiare la squadra avversaria Una volta che è avanti Di set è difficile da raggiungere Tra l'altro seconda partita Per gli alfa Per gli alfa la seconda partita Reduce da una vittoria Quindi immagino Anche perché io Quanto siano entusiasti Non capisco Non so se sia necessariamente Una difficoltà in più Fare la seconda partita Probabilmente partono Comunque già Già riscaldato E questa volta Se lo portano a caldo Un tiro quadruplo Sì Sicuramente Sì Sono più Più riscaldati Gli alfa Però Mai dire mai No no Quello sì Si accordano Su quante finte fare Si stava per difendere Al non blocking Finta Okami ha indicato Su chi tirare No Su chi tirare C'è solo una possibilità Oddio Ok Pensavo di fosse stata Qui vicino Ma Confermiamo Il 3 a 0 Alfa Ok ragazzi Secondo tempo 3 a 0 Per gli alfa Fino alla partita A senso unico Ma Non è ancora Detta l'ultima parola Se ingrannano i prime Tutto è possibile E quindi Sono curioso Di cosa ci faranno vedere Sì sì Sicuro Secondo tempo Da 10 minuti In posizione Pronti Si falte ragazzi Mio zio Quanto era veloce Non capisco Come hanno fatto A salvarsi Sì Diciamo che È stato un attimo Di fortuna Perché lì La palla è passata Cioè Messo a due Giocatori che erano girati Sì Subito Vantaggio numerico Per gli alfa Subito Ormai hanno capito Che hanno Tre palloni Obbligo di tiro Cercheranno Gioco Oh mio dio Che tiro Anzi era una Missile Una sberra Sta giocando anche Con i negli ora Eh sì Hanno messo Special team Degli alfa Best team No dream team Per gli alfa Palla in faccia Verso Romualdi Probabilmente quelli che sono fuori Hanno giocato tutto il primo tempo E ora stanno Stanno facendo riposare Perché si trovano a giocare Moltissimo Eh sì Anche perché poi vincendo Non è finita Esatto Più si va avanti Più le volita rischiano E' questa è sul piede Caprara Stai iniziando Ragazzi Stiamo attenti Stiamo attenti In grana Il tempo è tantissimo C'è tutto il tempo Per recuperare Di nuovo Quindi in realtà Sono quattro palloni Per gli alfa Sì Quello è degli alfa Sì No E' a quanto pare Era del velletri C'è stato uno sbaglio Come possibile Pensiamo che fosse Eh ma era sulla linea Era un attimo sbagliare Cristiano era lì Quindi Si va il tiro Tiro da sotto Oh bellissimo Il tiro da sotto Non ne approfittano gli alfa Non ne approfitta neanche il velletri Comunque Eh vabbè Avrebbe rischiato troppo Adesso diciamo Gli alfa non hanno Tutta questa fretta Eccolo Mamma mia Scudo Niente da fare Kame Lo vedi un attimo Ti viene distratto 3 alfa contro 5 No però adesso 5 palloni Infatti viene colpito Mamma mia La precisione Ragazzi Di nuovo 4 contro 3 Palla Si è difeso al limite Milone benissimo direi 4 palle Velletri Riesceranno a portarsi a casa No Tiro doppio Giustissimo Perfetto Però purtroppo Non si sono avvicinate al bersaglio Anche sarà doppio 4 palle alfa Minuto 4 Vediamo Tiro doppio Unicentrali Tirano su Elvin Riesce a recuperare la palla Aiuto Ma non ti lasciano un attimo La pressione è molto alta L'hanno aumentata molto anche con fronte allo scorso torneo E riescono a portarsi a casa con i mei Ragazzi 4 contro 2 Uno fa finte E Camerani invece in ginocchio Al limite della linea E' proprio Al limite della linea E' proprio E' un momento 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 Sopra Oh gliel'ho chiamata eh Cioè gliel'ho proprio lanciata a me E Mirko Perché si vedeva da qui proprio Che era proprio al limite Mirko fa il famoso effetto Erik Serra Ah così Erik Sì sì Beh Ci siamo ragazzi 3 a 1 Diablos Vediamo se è iniziata la rimonta del Velletti Ce l'hanno fatta vedere contro il Padova se non sbaglio È vero L'ultima partita di girone Chi te l'ha fatta vedere? Il Tri Ci hanno fatto vedere una bella rimonta Eeeh Dovevano approfittarne Non ha voluto tirare Nonostante essere l'obbligo di tiro Strano Strano scelta Ma Frutto sicuramente Delle direttive Datenele time out Un po' invece colpisce Milone Chi è stato eliminato? Eeeh Mongardi dovrebbe essere Che cosa brutta Non sapere bene i coglioni Eh sì Anche perché nella maglietta Ha risposto un altro nome Kame Attirazzo di sinistro Sì sì Bello Attirazzo di sinistro Così stanca un po' Un braccio Un po' l'altro Caprara Recine Milone al tiro Milone Passa davanti Alla faccia di Kame Che non vedo Oh oh Piede Oh Quasi completa Potevamo salvarla Una Presa che era difficilissima Però Vantaggio sempre Velletri Sì 5 contro 4 Camerani e Tucci ancora in campo Con Colinelli Ovvio Mamma mia Oh mio Dio Eh Kame Ogni volta che non fa una presa C'è stata un attimo una Una lotta Ma ho visto partire Dei missili Sì Bellissimo Possesso Velletri Isatto E Kame La tira Mamma mia A Tucci Facendo scudo Quasi Colpisce Colpisce Il suo Compagno Possesso Velletri Ecco Oh Ci prova Recine Grazie anche Recine Passa vicino a Tucci Eh sì La palla Anche perché Tucci È l'obiettivo Beh sì Potrebbe essere L'obiettivo Prima Infatti Temo anche che abbia Non dico paura Perché paura no Ma difficoltà A liberarsi Della palla Perché Però Cerco Se fa così E allora Tutto quello che sto dicendo Inutile Non so se è andato Prima alla finta Di Romualdi Dove fa E poi Sorride Contento Che il suo operato È giusto Il suo l'ha fatto Certo Ora ci inchiniamo Perché è ora Di giricharsi Verso la Mecca Oppure Facciamo la presa Mongardi Non è Mongardi È Romualdi Mette pressioni Anche da fondo siamo 4 contro 4 Di nuovo 4 ballum Oddio Non vorrei Stai lontanissimo Oddio La palla Carica C'è la peva Di energia cinetica Li esplode nel petto E se ne arriva Vanno l'attacco ancora Eh Va bene ragazzi Allora Aveva scarse pretese E quindi Chiude una presa Più alte le pretese Di collinelli Doppio scudo Colpisce Recine In piede Di Tuccio Di nuovo Ragazzi Non smetterà mai Di sorprendere Una marea Di cambi di fronte In questo set Che mi piace Ma Mancano Manca davvero Poco E i Pegasus Devono andare Sul Tra due Minimo Ah Peccato Cavolo Adesso non so Qua Elvin Se Non so Se gli convenga Rimanere in campo O dare ancora tempo Alla sua squadra Perché rimanendo fermo lì Rischia Semplicemente Di far allungare Troppo il tempo Sì Però Col tiro che ha Se la può giocare Un'ora inizialmente Quanto li diamo? Eccolo Mamma mia Quanto li diamo Di tempo? Ecco Un comune lì L'ho fatto stare Bravissimo Anche lui ha fatto Le finte per schivare Sì Eccolo No Cavolo Si stava lanciando Era Ne ha schivato tre Era difficilissima Era un'impresa Bravissima Bravissimi tutti Complimenti a tutte e due Le squadre Sì Ok ragazzi Continua Questo scontro Tra Diablos E Alpha Partita Tiratissima Ponteggio un po' bugiato Ponteggio sì Ma in realtà i pegasi stavano lottando Stanno rispondendo benissimo Alla pari Il tempo È davvero poco Sì Per le speranze del pegasi Si è prodotta Proprio al lumicino In posizione Pronti Due minuti e trentadue alla fine ragazzi Non velocizzare Di più Di più Peccato Mamma mia Devono eliminare tutti Tutti Ma in fretta Esatto Nel senso che Deve essere Devono fare doppie Triple Non lo so Un terremoto Deve essere un apocalisse Deve essere Mamma mia Un diluvio Cosa La cosa più bella di questa azione È stata la faccia di Camerani Camerani che ride Ha riso di aver fatto questo giro Ha riso Quando stava andando a prendere la palla Sì sì Fanno tutti sui bersagli di V Vogliono proprio toglierne fuori E sai che è proprio quello che stanno facendo Il Pegasus Stanno praticamente fucilando Appena non farla tirano Oh mio Dio Eh due Due eliminazioni per il Velletri Il tempo Sì sta scorrendo Rangirà da solo No Oddio l'avrei voluto vedere Colpito Oddio Tu c'è C'è seguito un fischio verso di lui Niente Ok si è difeso Sì No Ok non si capisce Allora Ha fischiato sicuramente Sì Draghi perché ho sentito il fischio Esatto Sicuramente l'ha visto colpito Magari ha visto una difesa sporca Però non ci ho dovuto O ha cambiato idea O Tuccio con lo sguardo Ha promesso Una rissa dopo Quindi Una delle due cose È probabile anche la seconda Vediamo Intanto stanno discutendo È molto molto importante Queste eliminazioni Sì Speriamo che Alla fine ci sia la rissa No Ok No Ok niente È al limite Adesso forse Allora gliela ha promesso E Tuccio Gliela ha promette E Prifti Gli punta anche il dito contro Qualcuno lo prenderà Esatto Non è sicuro In campo Ok Quindi difesa Da parte di Tuccio Allora Se riescono A eliminare In 20 secondi Poi hanno un minuto Dopo Per fare 2-3 Mamma Intanto È eliminato Kame Sì sì È eliminato Vlocissimi Hanno davvero Eh Tuccio Deve fare con calma Colpito Subito Colpito Mamma mia Hanno 1 minuto e 12 1 minuto e 12 Per vincere 2 set No 1 Ah 1 E poi il no blocking Bene bene Non è ancora finita ragazzi State con noi 1 minuto e 12 Occhio Sì 2-7 Allora Riprendiamo ragazzi Direttive Del capitano Caprara Che Praticamente Sta dando Gli ordini Per provare a vincere Un set In un minuto E 12 secondi Per poi portarsi Sul 4-3 E andare a giocarsi Tutto al no blocking Proprio così Se lo fanno ragazzi Qualcosa Io mi lancio D'acqua No quello è Eric Metti Allora Eric Si lancia Oh mio dio Parte col piede giusto Recina Non è ancora detto Non è ancora detto Eh guarda Come va Tuccio All'attacco Quasi Tuccio Vuole eliminare Palla in mano E non si elimina 50 secondi Circa Devono volare Di contropiede Ah Presa mancata È giusto però Sì sì Bisogna provare Guarda il no look Ecco No Tu c'è eliminato Ok Due Ecco a me Approfitta Di ogni distrazione Noi da Telecronisti imparziali Vogliamo vedere Il salvo Ah eccolo qua Caprava Oh Ecco arriva la eliminazione Da parte di Milone Si deve volare Si deve volare Quattro prese Servono quattro prese Quattro prese Su quattro tiri 12.000 palloni Ah niente Non si parte Ragazzi Era un'impresa Troppo difficile Troppo difficile Troppo Due doppie allora Vale 8 secondi Ecco Una la fanno Una la fanno E sfiora Una la fanno Milone ha sfiorato Ha sfiorato il piede di Di Cano È finita così La partita va No blocking Ci hanno provato La partita è Infa Dagli alfa Si gioca il no blocking Per la gloria Però Stavano per fare Una cosa bellissima Sare però già uno in meno Gli alfa E uno in più Il veletri se a Piolanti Non fosse entrata Quella presa all'inizio Eh sì Però quello doveva accadere Eh sì Vediamo un po' No blocking Come la fanno finire Eh si inizia col 360 Cos'è Camerani Si dispera Per questa presa Che non ha fatto E lo fa Questa invece è terra Sei palloni alfa Camerani voleva la presa Ma io direi che è finita Dopo il 360 è finita Oddio Eccolo Esiste uno sport Il più antico che c'è Mi giocava già Frodo Sul monte Fatto Io non pratico Nuoto Se vuoi lanciare Tre sfere magiche Sae tan gloriose Da volo a volo Smetti di stracciarmi Le palle Con la palla Volo